Come nasce una storia di Dilan Dog? La storia di Dilan Dog nasce da uno spunto che viene a modo ispirazione, che è francamente difficile capire da quale angolo della creatività, della mente, sgorghi fuori. Cività di Bagno Reggio, la città incantata, potrebbe essere un buono spunto? Assolutamente. Cività di Bagno Reggio è un paese delizioso, ha parecchi angoli che sanno di misterioso. Credo che potrebbe essere una location significativa, anche perché cambia molto durante il giorno quando invasa da coloro che partecipano al festival internazionale alla sera quando invece è più spopolata, più ombrosa, più oscura. Per cui credo che potrebbe essere una location perfetta per quanto riguarda Dilan Dog. Sono stati tre giorni molto belli, io non sono un grande frequentatore di festival, qui complice il fatto che la location è bellissima, complice il fatto che c'è un panel davvero interessante e sono venuto con piacere. È un appuntamento dedicato a professionisti ed è stato bello ascoltare i panel, i workshop dei colleghi e sentire i colleghi, vedere i colleghi che partecipavano attivamente all'incontro anche il mio. Per cui ho trovato interessante il fatto che ci fosse un sincero interesse tra professionisti, ognuna capire meglio ambiti diversi, i disegnatori capire meglio chi scrive, gli sceneggiatori capire meglio chi crea per immagini. Mi ha molto arricchito, credo di non essere l'unico.